Ragazzi, gli dico. Troviamoci in Umbria. La vista è da perdersi. Partono i selfie. Parliamoci chiaro. Il programma è non avere programmi. Chiara segue il profumo di un forno. Dice che ha bisogno di energia. Giriamo l'angolo e cosa troviamo? Tesori nascosti e luoghi da sogno. Piove. Cambia qualcosa? Non certo l'umore. E la sera? Wow! Il presepe si accende. Ecco gli angioletti. Chissà cosa ci aspetta domani. Umbria. Una regione per mille ragioni. Grazie.